Musica Abbiamo ripreso questa mattina il lavoro in palestra dopo il giorno di riposo e dopo l'amichevole fatta contro Rieti con doppia seduta questa mattina appunto pesi e tiro più oggi pomeriggio il lavoro in campo e da oggi riprendiamo quella che solitamente è la nostra settimana tipo. Lavoreremo sugli adeguamenti che ci hanno mostrato le due partite giocate nella regular season appunto contro Cecina per cercare di arrivare il più preparati possibile a quella che è gara 1 martedì 2 giugno in casa nostra cercando di portarla a casa. I ragazzi sentono molto l'attenzione però si stanno allenando in maniera molto dura e determinata per arrivare pronti a questa serie e portare a casa il risultato.